Dicono che la famiglia sia il nostro punto di partenza, poi di fuga e alla fine diventi quello di ritorno. Per le loro nozze d'oro i miei ci hanno voluti riunire tutti. Era stato organizzato per stare bene tutti insieme, come quando eravamo bambini. Scusate, scusate! No, mi devo interrovere, sennò perdete il traghetto tutti quanti, eh? Poi però, lì, ci siamo rimasti bloccati. Mi trovo ancora così inquieti, i nostri figli. E scopri che chi ti sta più vicino non lo conosci per niente. Che hai combinato stavolta? Eh? Io ho combinato. Ti vedono come la scheggia impazzita a casa. Non mi vedono da anni, non sanno niente di me. Come hai fatto tu a sopportare tutti i tradimenti di papà? Ma a te questa cosa proprio non ti va giù, io voglio che siamo solo tutti felici. Porca puttana! Da quant'è che ci stai a forza come una foto? Per favore! Lo dico io, sono a 9 anni! Basta! Stai sei una malata di mente, sei! Non è successo niente, siamo tutti bene, sattro! Io sono cresciuto orfano, a me la famiglia mi sta su un cazzo! Giuro che il giorno dopo che faccio 18 anni scappo e non mi vedono più. E adesso sfogliati Come sai fare tu Ma non illuriati Io non ti casco più Tu mi piangerai Ora è una vita normale Le vite normali non esistono E la sensazione Nala 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 nala